Do la parola al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Professoressa Maria Chiara Carrozza. Buongiorno a tutti, ruberò solo pochi minuti perché penso che il convegno debba entrare nel vivo. Innanzitutto un ringraziamento alla Scuola Normale che ha aderito alla mia proposta di organizzare questo convegno qui oggi. E con queste parole vorrei spiegare anche perché siamo qui e perché c'è stato questo convegno. E poi a tutti voi che siete venuti impiegando un sabato indolente mattina autunnale in cui magari si sta volentieri a letto a leggere un buon libro e giornali, invece siete venuti qui oggi a discutere di questo tema che è molto importante per il futuro dei nostri ragazzi, e molto importante per le generazioni che verranno. Riprendendo un ruolo, quello della comunità degli insegnanti, dei professori, degli scienziati, degli editori, di tutte le persone che stanno dietro alla preparazione, alla scrittura di un libro e riprendendo un dialogo che assolutamente deve partire oggi, è sicuramente già vivo ma deve riprendersi un po' nelle aule delle nostre università e delle nostre scuole per porci di fronte alle sfide che noi abbiamo, gestire il futuro dei nostri ragazzi, più di 7 milioni di studenti che dipendono dalle scelte che noi faremo a Roma, da come imposteremo le nostre riforme, da come imposteremo i nostri provvedimenti. In questo settore del libro sono fondamentali, quindi dobbiamo scegliere come investire, su cosa investire, come gestire questo processo inesorabile che probabilmente non si fermerà di passaggio dalla scuola tradizionale, dal libro cartaceo che per secoli ha dominato la scena dell'istruzione, della trasmissione, della diffusione del sapere, a un libro diverso, che non sappiamo ancora come sarà. Allora, prima di tutto perché siamo qui? Siamo qui e mi fa molto piacere che siamo in quest'aula che io tante volte ho visto, ho visitato prima da studentessa, poi da ricercatrice, poi da rettrice e siamo qui proprio dove c'è un archivio importantissimo, quindi siamo nel tempio del libro, dell'archivistica, vicino a una delle più belle biblioteche d'Italia, quella della scuola normale, a due passi da un'altra biblioteca il cui futuro è molto controverso e molto discusso, qui appisa un argomento di discussione quotidiana nelle piazze, nelle aule e nei bar del centro, il futuro della biblioteca che sta in questo momento chiusa in sapienza. Per cui siamo proprio nel cuore della discussione, divisi fra il patrimonio del passato e il futuro. Io stessa, come vedete, uso l'iPad da sempre, da quando è uscito e quindi anch'io ho vissuto sulla mia pelle questa transizione. Siamo qui perché ci dobbiamo ricordare quando è stata fondata l'Ecole Normale Superiore. Perché fu fondata? Aveva una grande ambizione napoleonica, quella di formare gli insegnanti che sarebbero stati distribuiti su tutto il territorio per insegnanti, per formare a loro volta i cittadini nel paese. E c'era un'idea profonda, quella di quando si deve lanciare un nuovo Stato, costruire un nuovo apparato burocratico, riformare lo Stato su nuovi principi, una delle cose più importanti da fare è formare gli insegnanti, quelli che noi oggi chiamiamo formatori con un termine orrendo, ma in genere io preferisco usare il termine insegnanti. Formare gli insegnanti e soprattutto garantire che i migliori talenti dal popolo possano studiare, migliorarsi e crescere e diventare gli insegnanti del futuro. Quindi anche c'è un'idea, come dire, molto importante che era quella della diffusione del sapere, della mobilità geografica, della mobilità sociale e di prendere migliori talenti e di formarli in una scuola che potesse diffondere quindi il sapere, il nuovo sapere e anche nuovi principi dello Stato. E quindi vorrei essere qui non perché io ho sogni napoleonici, anche se la tentazione è forte dalla scuola normale, ma perché penso che in questo momento di ricostruzione del paese noi dobbiamo guardare gli insegnanti con una loro figura chiave, perché sono quelli che tangono insieme questo paese. In questo momento, a parte l'esercito, la polizia, la guardia di finanza e tutti gli apparati dello Stato e la scuola, non ci sono altri carabinieri, non ci sono altre istituzioni come la scuola italiana distribuite sul territorio che provvedono alla coesione territoriale con tanta diffusione capillare e determinazione. Quindi io vedo il ruolo della scuola sul territorio, il ruolo degli insegnanti come quello di tenere insieme lo Stato, trasmettere il sapere, i nostri principi costituzionali, i principi dello Stato e rappresentare lo Stato. Io come ministro e come governo mi sento rappresentata sul territorio nazionale dagli insegnanti, da Bolzano a Mazzara del Vallo, lo dico spesso, e quando rientro in una scuola ritrovo tutti quegli elementi caratterizzanti che poi sono gli elementi che ci fanno sentire italiani. Siamo italiani perché abbiamo studiato in aule simili, abbiamo studiato con professori che avevano stessi programmi e non da ultimo abbiamo studiato sugli stessi libri. Abbiamo letto tutti i promessi sposi, abbiamo letto tutti i fondamenti e gli stessi libri sono quelli che ci tengono insieme e che ci danno quel linguaggio comune che ci fa sentire italiani. Scusate questa predica iniziale, ma qui c'è tutto il significato di un convegno come quello di oggi. Vorrei che questo fosse un convegno scientifico, nel senso del seminario, il seminario come si organizzava ai miei tempi e poi è sempre continuato qui alla scuola normale, all'Università di Pisa, alla scuola Sant'Anne. Il seminario è un luogo aperto a studenti, professori, ricercatori, cultori della materia che vengono a discutere liberamente, senza posizioni politiche, senza hashtag su Twitter mi perdonino quelli che le hanno impostati, ma il significato è che siamo qui per creare una comunità di persone che crede nel futuro del libro, indipendentemente da come sarà fatta la piattaforma libro nel futuro e crede nell'importanza di quello che fa. non si fa editoria scolastica per fare grandi business, si fa perché anche si crede nell'importanza della trasmissione del sapere. Infine c'è un tema anche importante che è quello tematico, i nostri libri alla fine potranno essere su iPad, su Samsung, su piattaforme nuove che usciranno nei prossimi anni, ma noi dobbiamo insegnare ai nostri studenti a fare gli integrali, a tradurre dalle lingue, a studiare la storia e insomma dobbiamo insegnare e trasmettere il sapere, quindi quello che ci interessa più di tutto è che il contenuto di quello che trasmettiamo sia tale da rendere i nostri studenti competenti e quindi ci deve essere un'attenzione alle competenze finali, la valutazione di quello che noi faremo oggi purtroppo non potrà essere fatta in due mesi, in tre mesi, in un anno, andrà molto al di là del mio mandato di ministro o di parlamentare nel mandato dell'attuale direttore della scuola normale, perché l'effetto di una scelta politica nel campo scolastico purtroppo si vede in anni e si vedrà nelle competenze degli studenti che studiano oggi, fra 3, 4, 5 anni, nella loro capacità anche di affrontare il mondo del lavoro e l'elaborazione culturale, per cui abbiamo quello che in robotica si chiama un loop aperto, non vediamo l'esito di quello che noi facciamo, quindi purtroppo abbiamo un sistema di controllo, facciamo delle modifiche, possiamo solo immaginarci l'impatto delle modifiche, ma non sappiamo bene adesso, non possiamo avere un feedback diretto, empirico, subito, immediato dell'effetto delle scelte che facciamo, per questo è necessario ristabilire il dibattito. Infine l'ultimo punto, dobbiamo recuperare, e il motivo è degli invitati di oggi, che sono persone che sono molto avanti sull'esperienza dei libri digitali, scuole che sono all'avanguardia, persone magari professori o insegnanti più conservatori da questo punto di vista, ci sono editori, c'è tutto il mondo, con posizioni diverse, dobbiamo anche recuperare questo dialogo fra i vari attori e soprattutto il dialogo fra scuola e università, interrotto da riforme scellerate, da un'idea che si potesse separare l'istruzione secondaria di secondo grado, primaria, da quella superiore, come se fossero due mondi diversi, gli studenti sono gli stessi, non è che dopo l'esame di Stato cambiano di natura, sono sempre loro e il sapere è quello, è sempre più specializzato, sempre più avanzato e il pensiero è che possiamo separare le carriere, separare i due mondi e che si possa parlare di scuola solo dall'università senza coinvolgere gli insegnanti e i dirigenti scolastici, a mio avviso è un gravissimo errore che è stato commesso, è stato unificato il Ministero ma ancora la testa non è unificata, il pensiero e la visione sulla formazione non è unificata e sono veramente contenta che oggi ci sia qui una presenza di tante comunità, vorrei che questo dialogo si rivitalizzasse e che ci fosse apertura e che volendo riformare lo Stato e ripartire con la ricostruzione di cui c'è tanto bisogno in Italia, si partisse davvero dalla scuola, dalla formazione degli insegnanti. In Italia purtroppo abbiamo ridotto la formazione degli insegnanti a un problema di TFA ordinario, di scuole superiori, di normativa, di comunità che hanno fatto un percorso, di altri scontri fra chi ha fatto un esame, fra chi ne ha fatto un altro, ma quello che ci interessa veramente non è tanto il corso di studio o il certificato, ma è davvero come vogliamo formare i nostri insegnanti, quali strumenti possiamo dare loro per migliorare, per avere un effetto più valido, un impatto maggiore nella società e come dobbiamo recuperare questo ruolo che l'istruzione superiore ha sempre avuto a partire da Napoleone, di formare i formatori, cioè gli insegnanti, quelli che poi andranno nella società e di tenere questo filo della formazione sempre acceso. Il tema del libro digitale e della scuola digitale è un modo che ci consentirà a noi comunità che teniamo alla scuola di far riprendere il dibattito politico sulla scuola per dare all'istruzione e all'istruzione superiore il vero ruolo che merita nell'ambito di una riforma dello Stato, che se vogliamo che lo Stato italiano e che l'Italia rimanga un paese europeo, manifatturiero, capace di elaborazione culturale, di grandi progressi nel campo dell'arte, della musica, dell'architettura, dobbiamo proprio da queste aule iniziare un nuovo dibattito sul futuro della scuola. Grazie.